Vanno avanti senza sosta le ricerche di Franz Ferrante, l'avvocato 49enne pescarese di cui non si hanno più notizie dalla notte tra sabato e domenica. A denunciarne la scomparsa erano stati proprio i familiari, non sapendo più nulla del 49enne irraggiungibile da ore. L'auto di Franz Ferrante era stata individuata lunedì in contrada Pianapua a Serra Monacesca. Era chiusa e ben parcheggiata in uno spiazzale da cui parte un sentiero che conduce all'eremo di Santonofrio. E' stato lì che inizialmente si sono concentrate le ricerche dei cani molecolari del soccorso alpino, che avrebbero agganciato una traccia dell'uomo che però non ha portato ad alcun esito. Franco Marinelli, sindaco di Serra Monacesca. Io sono stato contattato da Carabinieri di Popoli lunedì sera verso le 8, che mi hanno avvertito di questa situazione, di questa macchina ritrovata nel nostro territorio. Il territorio è il posto, noi chiamiamo a Serra Monacesca la Pianapua, è un posto dove le macchine possono arrivare prima di iniziare il sentiero per l'eremo di Santonofrio. Le ricerche sono cominciate subito, il primo pensiero va alla famiglia, al papà e alla famiglia che ha conosciuto ieri, quando sono iniziate poi le ricerche di ieri mattina. Il quartier generale delle ricerche è stanziato in piazza del municipio a Serra Monacesca e operativo praticamente da lunedì sera. Il coordinamento delle ricerche è affidato ai vigili del fuoco in contatto costante con la prefettura e coinvolge anche i carabinieri forestali, polizia di stato, protezione civile, soccorso alpino e volontari della misericordia di Pescara. Le ricerche si avvalgono anche di droni e di due elicotteri, uno della polizia di stato e uno dei vigili del fuoco, oltre che dei cani molecolari del soccorso alpino. Le piste che i ricercatori stanno seguendo sono quelle che portano verso l'eremo di Santo Nofrio, verso il fiume Alento e verso la piana del legname, ma il territorio è ben più vasto e complesso, con percorsi non sempre facili da raggiungere. Daniele Di Valerio, che è il comandante della polizia municipale di Serra Monacesca, il territorio chiaramente lo conosce bene. Questo è un territorio di montagna che fa parte del Parco Nazionale della Maiella, quindi fiumi, torrenti, valli, calanchi, monti, boschi, quindi è un terreno anche particolarmente difficile da setacciare. È un terreno particolarmente difficile da setacciare perché è un terreno particolarmente impervio, ma c'è da aggiungere che questo è un territorio dove esistono molti animali selvatici, dagli ungulati ai lupi, alle volpi, agli uccelli rapaci e quindi insomma i pericoli sono dietro l'angolo, specialmente per chi decide di avventurarsi in montagna senza compagnia. Esparto conoscitore di montagna, escursionista a vezzo a lunghe camminate, Franz Ferrante potrebbe essersi rifugiato in un luogo sicuro proprio in attesa dei soccorsi.